Chi è quella bionda? Madonna ha un uomo. Nel giro di 24 ore, Madonna farà di un docile compito avvocato... Chi sei tu? ...uno scatenato fuggasco alle prese con la giustizia. No, ti prego, contro il treno, no! Madonna, Griffin Dunn... Who's that girl? Oddio! Solo perché lei possiede la chiave di una vita che lui non si sarebbe mai sognato. Madonna, Griffin Dunn... In una commedia irresistibile, chi è quella ragazza? Who's that girl?